Musica Ciao gentaglia, bentornati! La prima cosa della quale credo bisognerebbe parlare quest'oggi è Sanremo Peccato che non ne sia in grado perché non l'ho visto Sanremo tendenzialmente Ho davvero fatto parte di quel gruppo di sette italiani che hanno detto che non avrebbero guardato Sanremo e non hanno guardato Sanremo Ho dormito nel frattempo che tutti lo guardavano perché sono un vecchio La mia discolpa però, ho ascoltato su internet una delle canzoni in gara, quella di Morgan che non mi è piaciuta, non l'ho ascoltata nemmeno tutta ma comunque sono un caso particolare qualsiasi cosa scenda sotto un certo numero di BPM quindi tutte le robe che sono a Sanremo o raggiunga un certo quantitativo di sentimentalismo quindi tutte le cose che sono a Sanremo per me diventano completamente inascoltabili Non è colpa mia, sono allergico ai sentimenti Sono cresciuto con l'Eurodance, va bene, ci vuole tolleranza Parlando di sentimenti però Facchinetti Il buon amico Facchinetti che a sto giro non tiro in mezzo a causa dei suoi video stile Silicon Valley che promuovono telefoni o app che sono tendenzialmente delle copie di cose già esistenti Il punto è che chi di messaggistica colpisce di messaggistica perisce specie nel momento nel quale tutta l'Italia è su Twitter Seriamente ho dovuto defolloware della gente troppi tweet con il disegneto del disco a fianco all'hashtag BAST STOP Vi prego Unica cosa che mi irrita è ostentare il sostenere i diritti delle copie gay Non ho nulla contro ma mi sembra che la cosa sia veramente forzato Al che ovviamente sono arrivati un sacco di tweet in risposta insulti più o meno gratuiti Ora premesso che comunque tra poco entriamo nel merito anche con tutta la simpatia che si può avere per Facchinetti Quante volte abbiamo detto che ciò che finisce su internet rimane su internet per sempre Ognuno di noi ogni tanto dice delle cose infelici Capita è fisiologico e va benissimo Impariamo a fare un passo indietro e a dire ok ho sbagliato lascio andare Non iniziate una serie di tweet correttivi dicendo che quello che avete scritto prima non lo avete scritto o peggio che vi hanno hackerato Oh mio dio mi hanno hackerato Ora non sto dicendo che sia impossibile che vi hackerino succede ma indovinate un po' se la storia non regge non vi crederà nessuno principalmente perché non è vero ma anche perché trasmette l'idea allucinante che dovete avere di voi stessi per dire una cosa del genere Siete così importanti che un hacker generico durante la serata di Sanremo mentre siete iperattivi con il vostro account quindi non distratti, non a letto, non lontani dal telefono ma mentre usate il telefono e siete su Twitter vi ruba le credenziali tweet è una cosa che non è nemmeno così terribile perché non ha scritto a morte gli ebrei scompare per sempre e voi ve ne accorgete soltanto il giorno dopo cioè non vi accorgete della mole di tweet che vi sta inondando in risposta a quello che non avete scritto certo, certamente non fa una piega, è credibilissimo e per rispondere velocemente a chi dice è ostentazione, sono le sue idee premesso che come sapete secondo me chiunque può dire qualsiasi cosa basta che sia in grado sia di argomentare quello che dice sia di prendersi la responsabilità e ovviamente gridare all'hacker non è esattamente un'assunzione di responsabilità non è una questione di ostentazione questo gesto come questo gesto come questo gesto o questo gesto sono semplici simboli di solidarietà a una causa significa tendenzialmente combattere una battaglia è tutto lì se nel nostro paese ci fosse improvvisamente un'impennata nei casi di AIDS in Piemonte o ci fossero gli zombie in Puglia e ci mettessimo tutti un braccialetto nero come questo in simbolo di luto e solidarietà andresti in giro a dire eh no però basta ostentazione sono d'accordo con il fatto che è brutto che i pugliesi muoiano mangiati dagli zombie però non c'è bisogno di farlo vedere in giro basta sussurrarlo molto piano sottovoce una volta al giorno mentre ci lava i denti chiusi in bagno e fa bene così senza ostentare anche sotto i miei video ogni due secondi arriva qualcuno che piagnucola dicendo che parla troppo spesso di questo argomento ma non è così che funziona se ne parla spesso perché è una battaglia viva nel nostro paese in questo momento peraltro una delle poche battaglie ideologiche rimaste a questa generazione non ci sono più battaglie da combattere a parte alcune questa qui è una di quelle essere d'accordo nel silenzio della propria stanza non serve a niente serve che se ne parli si discuta si litighi e alla fine per lo meno io spero che diventi la normalità esattamente come lo sono argomenti come il divorzio e il diritto di voto alle donne che non solo tutti danno per scontato ma nessuno gliene frega più niente di parlarne perché ormai è una cosa assodata ecco questo io vorrei per questo tipo di argomenti non che siano considerati ostentazione ma che siano considerati così normali che annoiano parlando peraltro di tweet cancellati anche Tim Cook ne ha cancellato uno recentemente anche se nel suo caso la ragione è un'altra durante il Super Bowl infatti il boss finale di Apple ha twittato questa foto fatta ipoteticamente dal suo iPhone durante i festeggiamenti alla fine dell'evento la foto fa schifo e mi permetto di dirlo semplicemente perché voi non vedete le foto che io faccio che l'80% delle volte non si capisce nemmeno cosa siano il punto è che a seguito di questa foto fatta probabilmente in fretta dato che poi ne sono seguite altre molto più belle è iniziata la tipica campagna di trolling sul fatto che buh l'iphone fa le foto brutte e tutte le robe così quindi tweet cancellato il che significa ovviamente riportare la foto che tanto comunque vivrà per sempre su internet dove chiunque l'ha copiata è ripostata 3 milioni di volte all'attenzione di tutti quanti che a questo punto immagino se ne fossero dimenticati o non conoscevano questa notizia a prescindere è il cosiddetto effetto Streisand che credo bisognerebbe studiare nelle scuole a questo punto ma visto che non si studia nelle scuole link in descrizione assieme a tutto il resto il che peraltro non significa che internet abbia sempre ragione anzi anzi il punto è che è difficile che alcune cose passino inosservate quando ci sono così tante persone che guardano e condividono prendete ad esempio queste foto postate inizialmente su twitter e poi riprese addirittura dalla BBC mostrano una parata avvenuta in questi giorni al Cairo in Egitto che prevedeva la presenza del generale al Sisi che è stata adornata da un tappeto rosso lungo 4 km che è stato srotolato in modo che il presidente potesse passarci sopra con la macchina questa cosa ovviamente ha fatto arrabbiare tutti specie alla luce del fatto che in Egitto si parla della necessità di misure di austerity da applicare per sistemare l'economia del paese e alcuni hanno fatto notare che potrebbe non essere la più felice delle scelte quella di farlo guidando su un tappeto rosso lungo 4 km e largo come due auto il che solleva peraltro un sacco di domande importanti ad esempio dove dove lo mettono questo tappeto? è un tappeto gigante è fatto a pezzi o è un tappeto o è no perché probabilmente è fatto a pezzi però mi piace immaginare che invece sia un unico enorme tappeto che non so viene messo dentro le piramidi perché non sanno dove metterlo dato che quando viene arrotolato immagino diventi grande non so quanto sanzì e la gente si è lamentata un sacco su internet anche se poi è saltato fuori che il tappeto non lo ha veramente comprato al CC era già tra le cose che appartenevano ai governi egiziani precedenti che è un problema della politica quando parla di austerity ho sentito mille volte ad esempio criticare Napolitano in passato quando si chiedeva agli italiani di fare i famosi sforzi le lacrime il sangue del governo Monti quella roba lì perché i suoi discorsi avvenivano da un luogo bello come il palazzo del Quirinale il che può immagino essere una posizione anche se se questa dovesse essere la vostra posizione semplicemente non avete visto niente you know nothing John Snow perché per dire questa è la regina Elisabetta che parla di manovre economiche al paese vestita d'oro seduta in una sedia d'oro che parla all'interno di una stanza che è in tutta probabilità composta dal 92% di oro e dal 5% di qualsiasi cosa sia il materiale del quale sono fatti quei robot che le stanno accanto immobili e per il restante 2% immagino del mestopiagnisteo di chi con una di quelle gemme potrebbe pagarsi gli studi una villa al mare e una vita che permetta di non utilizzare mai più il corso di studi appena pagato e stare tutto il giorno nella villa al mare appena comprata e rimane anche un 1% che è probabilmente quella sorta di odore di minestrone che c'è nelle case delle nonne perché non importa quanti soldi hai nella vita non puoi scappare dalla maledizione del minestrone rimanendo in tema esteri il secondo giro di primaria lo ha vinto Donald Trump del quale abbiamo parlato un milione di volte è a sorpresa ma non così tanto a sinistra è stato Bernie Sanders a staccare di moltissimo Hillary Clinton svariati punti che erano un po' attesi ma non così tanto attesi e adesso ovviamente la stampa italiana si sta sperticando in un sacco di lodi perché Bernie Sanders come abbiamo già detto è molto vicino alle posizioni di quella che potrebbe essere un po' la sinistra europea che è un'assoluta novità per gli Stati Uniti sempre se dovesse essere lui a vincere il che sarebbe senz'altro interessante più o meno come sarebbe interessante in effetti vedere qualcuno come Donald Trump alla guida del paese più potente del mondo comunque questa seconda etapa delle primarie può significare tutto può anche non significare niente al prossimo giro si voterà sempre a febbraio in Nevada e South Carolina e più andremo avanti nelle primarie più ci faremo una chiara idea di quelli che saranno effettivamente i due candidati presidenti americani nel tempo è abbastanza tradizione che i candidati meno favoriti vengono lasciati indietro e lentamente abbandonino la corsa finché non rimangono soltanto due candidati uno per la sinistra e uno per la destra in ultimo di nuovo lui fonti americane infatti parlano anche oggi della Corea del Nord e del fatto che il paese avrebbe fatto un ulteriore passo avanti nel proprio criticatissimo programma atomico riaprendo pochi giorni dopo l'altrettanto criticatissimo lancio del satellite un impianto nucleare che era stato chiuso anni fa a seguito di accordi con gli stati uniti in cambio di aiuti economici per il paese evidentemente ora gli accordi non valgono più e fonti statunitensi affermerebbero che grazie alla riapertura di questo sito industriale la nazione sarà in grado di migliorare moltissimo la sua capacità di produrre armi atomiche che in realtà sappiamo già che la Corea del Nord possiede ma al contempo di non aver ancora sviluppato le tecnologie per spingere queste bombe in giro per il mondo tramite dei missili il che significa immagino che al massimo stelle testate possono farsene scoppiare in casa che non è probabilmente considerata una soluzione ideale dal buon e saggio Kim Jong-un nella sua pulita e ordinata Corea del Nord e la cosa che mi fa impazzire di tutto questo è che continuiamo a livello mondiale a fare un sacco di battute di sarcasmo in merito a questa situazione della Corea del Nord che è fantastico scherzare sulle cose è un ottimo modo di affrontare la vita se però al contempo si fanno delle altre cose per evitare che lo scherzo non sia l'ultima cosa che sentiremo prima che un pazzo accenda una tecnologia che può potenzialmente uccidere decine di migliaia di persone in un istante e questo gentaglia è tutto quello che avevo da dirvi per oggi grazie per aver guardato grazie ad Arianna che è la nostra regina per oggi non so molto di te Arianna non mi hai scritto moltissimo ma ti abbraccio fortissimo ugualmente e questo non ti impedisce ovviamente di essere la nostra regina per oggi e grazie a tutti per essere arrivati fino a qui per la fiducia e tutto il resto io sono Shooter Hates You questo era Breaking Italy ci vediamo domani come al solito alle 18